Eccoci qua di nuovo in diretta, migranti, abbiamo ipotizzato un reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, noi abbiamo titolato Reato di invasione per i politici, diteci la vostra stasera e anche nei prossimi giorni, domani sentiremo anche dei legali, cercheremo anche di sentire un po' le reazioni dei politici, vediamo cosa può saltar fuori da questa provocazione. Intanto una notizia arrivata da poco, ordinanza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, mini market di giorno e locali la notte scatta l'obbligo di chiusura alle 18, domani la troverete sui giornali, in sostanza alle 18 questi mini market che di sera diventano a quanto sembra locali di vario genere, vengono chiusi alle 18, si fa l'esempio di Asian African Market, in via Trento a Mestre, il market Kosova, insomma. Domani troverete sui giornali come anche un'altra notizia importante, occhio perché sta per scattare un provvedimento drastico per il codice della strada, chi viene beccato col telefonino in macchina, appena scatterà questa legge, ne stanno parlando in Commissione dei Trasporti, potrà subire il sequestro della patente alla prima infrazione e multe fino a 3.000 euro. Quindi attenti col telefono, meglio spegnere, no? Certamente, ma almeno però non c'è il reato, non viene perquisito come reato anche penale, pesante. No, mi aspettavo che Brugnaro invece precettasse tutti i vigili che non si sono presentati al redettore, come era successo a Roma, avevo sentito molto arrabbiato su questo. C'è un'inchiesta in corso, no? Sì, infatti. Beh, 80 hanno presentato certificato medico, si vede che l'area romana e veneziana hanno cominciato ad avere lo stesso effetto. No, volevo intervenire sulla questione delle banche perché la questione è legale, purtroppo, cioè, mi dispiace dirlo perché poi è sempre difficile essere schietti con i telespettatori, però non credo che ci saranno tante soluzioni perché intanto, e sono casi rarissimi nella giustizia, che si perda tempo nelle competenze. Prima la competenza era di Roma, poi è andata a Milano, adesso è ritornata a Treviso per alcuni reati, a Treviso ci sono 3.000 querele e lo stesso povero sostituto procuratore De Bortoli è almeno due mesi che predica di avere un aiuto che forse gli arriverà a settembre, ma il tempo scorre e la prescrizione è l'inaguato, avanza. E allora, a me dispiace perché mi rendo conto che i 20.000 euro che ha perso la signora Maria sono veramente molto più importanti dei centinaia di milioni di euro che ha perso magari il grosso imprenditore, che comunque è altrettanto importante. Pensiamo alla gente che si è suicidata e pensiamo a tutti quelli che sono sull'astrico. Però io ho poche speranze, seppur sono un umilo operatore del diritto, ho poche speranze che si riesca ad avere una reale giustizia. Tra le altre cose, probabilmente poi Zonin potrebbe anche patteggiare, ma qui se lui patteggia 4 milioni di euro, i centinaia di milioni di euro che da qualche parte sono spariti, non vengono volatilizzati, saranno sicuramente in qualche paradiso fiscale e lì non li recuperi più. Allora, io provo tanta rabbia e sono vicina di cuore a quelli che come oggi sono andati a Vede Lago e che magari si metteranno in mezzo alle varie stazioni o in mezzo ai binari. Però potrebbero anche rischiare delle denunce, purtroppo, per interruzioni di pubblico servizio e magari aggraverebbero la loro situazione penale molto più di quanto altri hanno fatto nei loro confronti rubando il loro denaro, perché questa è la realtà dei fatti. Mi auguro di sbagliarmi, veramente me lo auguro, però io credo che la perdita di tempo tra le varie procure su chi dovesse iniziare i processi che ad oggi non sono ancora iniziati, io credo che rallenti così tanto il tempo da poi chiudere tutto con una bella prescrizione e con le persone normali che purtroppo avranno perso il loro denaro e nessuno glielo restituirà. Io, ripeto, spero veramente di sbagliarmi e mi dispiace di essere anche così schietta, ma penso anche che bisogna dirlo realmente alle persone che poi ci vedono, ci fermano anche per la strada e che non possono veramente farsi delle illusioni. Ma la gente, scusa, su una roba, basta, chi mette in galera i colpevoli ha... Ma tu devi fare un processo perché... Gnesetta e quattro colpevoli, non gli hanno messi in galera. Non gli hanno messi in galera. Non chiedono neanche di essere gli eserciti. Che vadano in galera i colpevoli ha una giustizia giusta e certa. Gli dovrebbero, non solo andare in galera, ma gli dovrebbero togliere tutte le loro proprietà per i prossimi 200 anni. Si è autofinanziato per 180 milioni di euro. Ma non sta succedendo. Ma non sta succedendo. Questo è il vero problema. Però sulle banche, se posso... Sì, e poi sentiamo il presidente. La questione si compone, dal mio punto di vista, di due momenti. C'è un momento legato al passato, che è fatto per quanto riguarda i risparmiatori, soprattutto i più piccoli, più indifesi, di frustrazione, di disagio, di difficoltà economica. E noi non possiamo, io personalmente non posso che essere a loro vicino per ciò che è capitato e che è veramente un grande problema. Ma è fatta anche della dimostrazione di una classe dirigente trasversalmente presente di questo nostro territorio, che ha dimostrato di essere incapace nel governare le proprie questioni. Questo è il passato. Allora, se vogliamo evitare che il futuro ci riservi gli stessi problemi del passato, bisogna fare un ragionamento di altro genere, pur con tutto il dispiacere, il dolore e l'accompagno verso chi ha perduto, se non tutto, molto. Il tema vero che noi abbiamo davanti è il seguente. Se è vero, come qualcuno dice, mi riferisco per esempio all'assessore del giornale Zanoni che ha fatto tutta una serie di pample sui giornali. Zanoni non è assessore per fortuna. No, scusi, è il consigliere del giornale. Grazie. Ho sbagliato, ritiro. Ma era per vedere se il presidente... Sì, sì. Sì, sì. E quindi bravo, se l'è cavata bene. Lui ha avuto il coraggio, o comunque la prontezza di spirito, di fare tutta una serie di denunce ad oggi non contestate da nessuno, dalle quali ricavo, questa è la mia personale lettura, il fatto che queste due banche attraverso una serie di passaggi, complice l'incapacità della nostra classe dirigente, alla quale anche io mi ascrivo, ci sono state scippate. Allora, se questo è, ciò che noi abbiamo davanti è la difesa del futuro. E il futuro è fatto di banche di credito cooperativo, di una banca unica popolare rimasta operativa sul territorio, che fa riferimento a Verona e non solo, e di un'altra banca che fa capo ad un gruppo francese, ma che mantiene una sua radice importante in Friuli, Venezia e Giulia. Questo dobbiamo fare noi, perché piangere sul latte è versato, laddove la possibilità da un punto di vista giuridico è relativa, la possibilità di avere un ristoro dei danni da chi li ha provocati è aleatoria, la possibilità di trovare delle disponibilità economiche per rifondere coloro i quali hanno perso tutto è improbabile, allora ciò che dobbiamo fare è guardare avanti, è come se avessimo subito un terremoto e quindi abbiamo due possibilità, la prima, disperati, piangere dicendo abbiamo perso tutto, non abbiamo futuro, la seconda, siccome abbiamo subito un terremoto e non c'è più nulla, in che modo ricostruiamo il futuro? Questa è la partita vera sulla quale dovremmo giocare, poi se c'è lo spazio un passaggio sui centri commerciali. Infatti domani troverete sui giornali nazionali il titolo hanno riso anche sua matrice, cioè un altro imprenditore come era successo all'Aquila ridacchiava pensando agli affari che avrebbe fatto appunto ricostruendo. Prima di tornare dal Presidente Ciambetti, vediamo il Presidente degli Industriali del Veneto, Matteo Zoppas che parla anche di banche, vediamo. È una situazione in cui la criticità stava crollando in modo pesante e si era dentro un vicolo senza uscita, per fortuna è arrivata questa soluzione della banca intesa che non voglio entrare assolutamente in merito al fatto che sia buona o cattiva, sicuramente era l'unica quindi per definizione buona, l'unica che si prospettava e adesso noi quello che ci auspichiamo e che chiediamo a ampio fiato a banca intesa è che si mantenga la vicinanza alla territorialità che noi avevamo anche prima. Così da treviso il Presidente di Confindustria Veneto sulle banche venete, i suoi timori in merito alla situazione critica per la liquidità delle imprese. La sovrapposizione all'ineo credito è uno dei nostri grandi timori, si diceva che ci sono alcune aziende che sono strette dalla crisi, alcune si stanno riprendendo, alcune sono ancora strette dalla crisi e che se su quelle dovesse pesare un ristringimento della linea di credito naturalmente non ci sarebbero soluzioni. È chiaro che noi abbiamo n imprenditori, abbiamo una sticella che tiene sopra o sotto gli imprenditori, se noi abbassiamo quella sticella ammazziamo gli imprenditori che ci stanno sotto, questa è la realtà. Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Veneto, Anna Maria Parisi ha firmato il servizio, Presidente Ciamberto. Prima rispondo a quel sinistro messaggio che diceva come non si sia accorti del Mose e delle banche. Il Mose è una legge nazionale e di gestione diretta del governo e del Ministro dei Presidente è una legge nazionale e come regione non abbiamo alcun titolo di entrare nelle dinamiche e nei controlli delle banche. Come Consiglio regionale abbiamo fatto una commissione di inchiesta che in 4 mesi ha chiuso il suo lavoro e ha finito anche con i pochi poteri che abbiamo una disamina di quello che è avvenuto. Quello che sarà importante è che la commissione di inchiesta nazionale che è da un anno e mezzo che chiediamo possa partire e anche qua si vede l'opacità con cui è stata gestita tutta la situazione delle banche popolari venete. Una legge approvata ancora qualche settimana fa che ha aspettato l'ultimo giorno utile da parte del Presidente della Repubblica per essere vidimata che entrerà forse in vigore come operatività a settembre che ha un anno di tempo per chiudere i lavori quindi va oltre il termine legislatura. Qua non si vuole, ripeto, non si vuole far chiarezza su quello che è avvenuto. Convengo con il Presidente di Coffcommercio che bisogna guardare avanti però anche far chiarezza su quello che è avvenuto secondo me è importante. Condivido l'analisi che bisogna guardare alle banche del territorio quindi alle popolari, alle esistenti ancora, alle banche di credito cooperativo, cioè alle banche che hanno una sensibilità che è vicina a questo territorio. Però anche far chiarezza su quello che è avvenuto secondo me va fatto. Faccio due brevissimi passaggi. Ad esempio il fatto che le popolari venete fossero le uniche banche a livello nazionale a non avere titoli tossici nel loro bagaglio rispetto invece a banche molto più grandi che hanno pieni di titoli tossici. Il parametro utilizzato per valutare i crediti delle banche popolari venete utilizzato solo per loro e non per altri istituti bancari magari più grandi. Il decreto fatto di domenica che come ha ben detto Mion minimo, minimo tre mesi di lavoro lo ha portato quindi anche l'offerta arrivata dal banca estere non valutata lì qualcosa è avvenuto. Ma qui si vede in maniera clamorosa che il regista della cosa, la mancata vigilanza di Banca Italia in capo a qualcuno va mandato questa situazione. Ripeto, gestita in maniera perlomeno discutibile. Ad esempio anche i crediti, gli NPL che sono in corpo alle popolari venete che fino al venerdì dovevano essere svenduti subito in maniera clamorosa. Quando le banche sono entrate, i banchi intesano o no, rimangono pure lì e col tempo si vedrà quanto varranno. Ripeto, sono molte le fasi di opacità che hanno seguito questa vicenda e poi la cosa più clamorosa è averle tenute a bagnomaria per mesi e mesi e mesi quando se si poteva e si voleva intervenire ancora un anno e mezzo fa si poteva fare in maniera molto meno onerosa e sicuramente molto più vicina anche ai bisogni degli azionisti. Quindi è bene guardare avanti ma fare chiarezza su quello che è avvenuto secondo me è fondamentale soprattutto per dare risposte anche alle persone che hanno rimesso in questa vicenda risparmi di una vita. Allora si è parlato, il Presidente ha citato il Mose, vediamo in corso il processo, i difensori di Orsoni hanno chiesto la soluzione dell'ex sindaco di Venezia accusando Mazzacurati, vediamo gli sviluppi di oggi in questo servizio. A ringa dell'avvocato difensore dell'ex ministro delle infrastrutture Altero Matteoli durante il processo Mose. L'ex membro del governo Berlusconi è imputato per corruzione e accusato di aver intascato tangenti tra il 2008 e il 2009 nell'ordine di 400-500 mila euro dall'ex presidente del consorzio Venezia Nuova per oliare i finanziamenti del Cipe per la grande opera e per la partita delle monifiche di Porto Marghera. Se l'accusa è di aver intascato delle tangenti, ha sottolineato il suo avvocato, i soldi lasciano traccia. Non è stato trovato nulla. Allora dove sono? Non c'è nemmeno un parente che abbia un'attività. Abbiamo consegnato tutta la documentazione. I fatti dove sono? Nel mirino dunque le dichiarazioni di Mazzacurati. Frasi inattendibili, sottolinea il legale. Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno avuto esito negativo. Non esistono nei incontri al ristorante vicino a Palazzo Chigi. Non ci sono case a Lucca. Nulla. Ilaria Marchiori da Venezia. Simone Borile. Rimane il tema anche qui, anche al nord della corruzione, oltre che della mafia. Oggi c'era l'anniversario della strage di Via D'Amelio dove morì il giudice Borsellino. Ma voglio dire anche qui tra Camorra, Andrangheta, Sacra Corona Unita. Cioè c'è di tutto e c'è anche, abbiamo visto in tanti casi, molta corruzione. Ma è un sistema anche questo di interessi organizzato, che è costante, reiterato, che fa un po' parte, e a me dispiace anche dirlo, di quella che è la nostra cultura italiana. E dispiace perché ci sono delle realtà imprenditoriali che sono un'eccellenza nel mondo, sani imprenditori che cercano veramente di, con i denti, di tenere in piedi la propria azienda. Invece ci ritroviamo poi queste situazioni che sono raccapriccianti, vergognose, un sistema, un'incapacità politica pregressa, un'incompetenza, un modo di fare politica che ha caratterizzato anni e anni di quella che è la storia, la crescita economica, il declino, ahimè, anche economico, ma direi anche culturale a questo punto. Perché vede, è una questione anche culturale la nostra, non è solamente una questione economica. È vero, oggigiorno il politico sembra essere il ladro di turno, il ladro che si piglia le mazzette, l'abbiamo visto nel servizio, un ex ministro dei trasporti e delle infrastrutture accusato di aver intascato 400-500 mila Euro per il Mosso Venezia. Allora se noi andiamo a vedere tutta quella cerchia di persone che sono state coinvolte in questa maxi azione anche, fa venire i brividi, è agghiacciante, perché non c'è colore politico, non c'è una destra, non c'è una sinistra, non c'è figura istituzionale che quasi non sia stata coinvolta in quel discorso. Allora lei capisce che in questa situazione qui di difficoltà economica, di disagio, di integrazione, di vecchia politica che dà questi esempi, è chiaro che poi di gente che ha i propri risparmi se li ha visti completamente scomparire e prosciugare, è chiaro che diventa a un certo punto una situazione atti estremi, la gente è arrabbiata, la gente vuole cambiare, la gente vuole il lavoro, vuole una nuova classe politica che sia onesta, trasparente e vicina alla gente. Le prossime politiche lei come vede, diciamo, si fanno i sondaggi, centrodestra, coalizione? Allora guardi, io leggevo proprio ieri dei sondaggi anche su una emittente nazionale, danno ancora il Movimento 5 Stelle come prima forza politica in Italia, è chiaro che bisognerà adesso attendere quello che sarà la nuova legge elettorale, ho sentito che non si dovrebbe toccare da quello che mi hanno detto, sicuramente con questo governo si andrà avanti fino a dicembre per approvare la finanziaria, la legge di bilancio e poi da quello che insomma si dice, si mormora insomma a gennaio dovrebbero sciogliere le camere che comunque in ogni caso il 15 di febbraio sarebbe il termine ultimo della legislatura, quindi si va al voto a marzo. A voto a marzo noi ci proponiamo non solamente come forza politica di protesta ma anche forza politica di governo, ci sono figure che comunque a prescindere da quello che molto spesso anche si legge, sono persone competenti, preparate, oneste, che lavorano nel territorio da tanti anni e che possono essere degli amministratori assolutamente molto valevoli. Nessuno parla per la morte in carcere di Doddore Meloni, Sardegna indipendente di Beppin Segato, incarcerato, morto, serenissimi, onore per loro due, Colombara, ogni tanto vengono ricordati, noi serenissimi anche in piazza San Marco, c'è l'inchiesta della procura di Brescia sui separatisti veneti, insomma il tanco, il casale di Scodosia. Devo dire che mi ha molto colpito quella notizia di quell'uomo che si è lasciato morire in Sardegna, cioè è una cosa quasi di altri tempi, quasi che non fosse più del nostro tempo che una persona avesse questa determinazione. Dice anche di come si faceva riferimento agli scontri che sono avvenuti ieri a Padova, mi sembra un altro mondo, noi usiamo un linguaggio delle immagini che sono quelle di 30 anni fa, ma siamo in un'altra dimensione e dice anche dell'incertezza un po' in cui siamo, stiamo cercando di usare linguaggio, immagini, categorie di un mondo che è passato, giustamente il collega dice ma non c'è destra e sinistra, io non penso esattamente così, penso che ci sono ancora dei punti di aggancio che tutti abbiamo, per fortuna anche, è che oggi passano in un'altra maniera. Io credo che il lavoro che c'è da qui davanti è ritrovare dei punti di riferimento in una società come la nostra che viaggia così in questa liquidità, non può durare tanto, ha bisogno di punti di riferimento e tutti i temi di cui parliamo stasera hanno il punto comune della mancanza di punti di riferimento, quando lei parla delle prossime elezioni io credo che tutti gli schieramenti 5 Stelle, PD o Forza Italia o comunque la destra, tutti andranno a votare ma nessuno andrà con grande entusiasmo io credo, dicendosela concretamente parlando con le persone. Lui speriamo veramente di andare a votare anche domani perché bisogna cambiare registro, così il sistema non può funzionare. Però il punto è che oggi non c'è veramente nessun punto di riferimento per cui tu vedi c'è stato negli scorsi anni qualcuno che ha avuto in mano una possibilità, oggi vediamo come le fortune politiche se non costruite su qualcosa rischiano di non lasciare nessuna traccia. Allora Dottor Salvadori tranquillo con il ritmo di arrivo di Barconi, la pensione fra pochi anni ce la daranno tutti a 30 anni, ne arriveranno talmente tanti, come sempre una questione di punti di vista, però è una bella battuta. Scusate dobbiamo chiudere perché siamo oltre l'orario, mi avrebbe fatto piacere darvi ancora la parola ma un po' a tutti a Ciambetti, a Salvatore, a Latocchetto, a Borile, a Colombara però siete invitati a tornare quanto prima, anzi grazie per essere qui in piena estate perché insomma non è da tutti arrivare fino a quest'ora in questi frangenti in cui ci sono grandi temi e anche grandi difficoltà per chiunque stia lavorando. come appunto i nostri occhi. Beh ma qui c'è l'aria condizionata. Come? Qui c'è l'aria condizionata. Allora c'è una bella aria di mare che si sentiva. Allora grazie a tutti davvero, andremo avanti su questo, ritenete che si possa ipotizzare una legge che in qualche modo sanzioni i responsabili di un caos come quello dei migranti, cioè chi non ha le capacità o la voglia o è indifferente rispetto a tutto questo e non agisce, rimane immobile, può essere perseguibile, può valere per lui anche il favoreggiamento, il reato di favoreggiamento per l'immigrazione clandestina, così è una provocazione, vogliamo sapere altre ancora le vostre opinioni. Grazie, ci rivediamo qui domani sera con i Veneti schiacciati dalla crisi, buonanotte, state con noi con la nostra programmazione, arrivederci. Buonanotte. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.